Ricordiamo che il gruppo si trova oggi per la prima volta e quindi... In uno dei luoghi più suggestivi di Padova, per la prima volta, un po' a sorpresa, si trovano a suonare tre grandi musicisti. Inoltre emoz simple al come vero e la prima volta. Università di Padova, per la prima volta, un po' a sorpresa, si trovano anche un po' a sorpresa. Per i ricordi per i ricordi, un po' a sorpresa... Per il ricordi per gli ricordi perché le ricordi che gladi fuori la prima volta, un po' a sorpresa. La prima volta, un po' a sorpresa per i ricordi, una cosa che si trova. Il nostro buongiorno mattino